L'associazione Lions Club Rocella Ionica è da sempre aperta ad una libera trattazione di argomenti di interesse pubblico e persegue i principi di buon governo e di buona cittadinanza. Oggi come non mai ha preso attivamente parte l'interesse del bene civico, promuovendo l'iniziativa alla Scuola Media Giovanni Falcone di Caolonia, incentrata sulla tematica del bullismo, oggi più che mai attuale. All'evento era presente anche l'amministrazione comunale, in particolare ha preso la parola l'assessore Maria Grazia Di Masi, che in qualità di avvocato ha affrontato in termini giuridici l'argomento. Era doveroso l'apporto dell'amministrazione comunale di Caolonia verso questa tematica molto attuale e molto diffusa in questa fascia d'età. Infatti questo evento di oggi, organizzato dai Lions, dall'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, è rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole medie. Sicuramente il cyberbullismo ormai sono degli atti che passano alla cronaca quotidianamente e sfogiano addirittura in gesti estremi come il suicidio a volte. Ho cercato oggi di fornire delle nozioni che possano aiutare questi ragazzi a capire che gli atti che loro fanno quotidianamente, sia sui social che con i compagni, quando sono degli atti gogliardici, la differenza tra un atto gogliardico e uno scherzo è invece un atto che sfoggia nel bullismo, quando si parla appunto di bullismo e di cyberbullismo dal punto di vista legale. Spero che questo possa aiutare veramente nella quotidianità ad evitare che questo fenomeno abbia diffusione. L'intento è quello di sensibilizzare i giovani partendo dalla scuola, ambiente in cui trascorrano gran parte del loro tempo, dove vengono formati in qualità di cittadini del domani e soprattutto luoghi in cui prolifera sempre più il fenomeno del bullismo. L'evento si è concluso con la premiazione degli alunni che hanno ricevuto un poster in ricordo della giornata. La giornata di oggi la dedichiamo all'educazione, alla legalità e al bullismo. È una tematica che il Lions Club Rocella Ionica ha sempre avuto a cuore, ha portato avanti in questi anni questo progetto di educazione alla legalità. Oggi all'auditorium di Caulonia premeremo i ragazzi anche con il poster della pace e il poster sul bullismo. Ci sono dei relatori che parleranno della problematica del bullismo come fenomeno deviante che può portare a delinquere e quindi sensibilizzare le scuole e i bambini affinché si riconosca la tematica della legalità. Grazie.